Il Pecciaccia a Genova si trova alla settima edizione, abbiamo iniziato quasi due anni fa a portare questo evento internazionale nella nostra città. È un evento interessante in quanto parla del locale, parla dei giovani che ci sono a Genova, anche non solo giovani, professionisti in generale e li fa emergere sul piano locale ma non solo perché è una piattaforma internazionale che avviene in 700 città in tutto il mondo. Questo permette di generare una rete, uno scambio fra ciò che avviene nelle singole città e metterle in rete con le altre. Una formula di presentazione molto veloce e molto rapida, come funziona? Esattamente, il Pecciaccia ha un format che è stato inventato da Clean Dirtam Architecture che è uno studio a Tokyo e che ha inventato questo format un po' particolare e divertente che si basa su delle presentazioni dinamiche e veloci che avvengono in 6 minuti e 40, ogni presentatore ha a disposizione questo tempo, ossia 20 immagini, ogni immagine dura 20 secondi, la presentazione va avanti automaticamente per il totale di 6 minuti e 40. Questo fa sì che comunque l'attenzione rimanga sempre viva, che si abbiano più persone a parlare e che in un certo qual modo lo scambio avvenga in maniera equa e divertente. Appuntamento ILE e c'è ancora la possibilità di iscriversi? Sì, appuntamento il prossimo 21 novembre, presto la CLAC a Genova. Il bando è aperto, c'è la possibilità di partecipare, scadrà il 2 novembre ed è semplicemente necessario inviare sette immagini del proprio lavoro, del proprio progetto, delle proprie idee, delle proprie innovazioni e una scheda di presentazione della persona e del proprio lavoro alla mail pkn.genova.gmail.com